Ho due mazzetti di carte, uno a dorso blu e uno a dorso rosso. Entrambi i mazzetti hanno dei cerchi colorati, ok? Sono cinque carte con dei cerchi colorati. Quale mazzetto vuoi per te? Il rosso o il blu? Rosso. Quindi il rosso lo teniamo per te e il blu lo uso io. Ho qui, guarda, questa cornice in plexiglass con dei numeri da 1 a 5. Nella parte sinistra andrò ad inserire io le carte con i cerchi. L'ordine, ecco così, casuale, questo per esempio lo metto al 2, questo per esempio lo metto al 3, questo lo inseriamo all'1, posizione numero 1, questo in quarta posizione e questo ovviamente l'ultima che è rimasta, la quinta. La stessa cosa faremo con le due, le andremo a inserire da questa parte. Questa dove voglio che le inserisco? La 2. Alla 2? Sì. Qui, perfetto. Questa alla? La 4. Alla 4. Anzi no, alla 3. Alla 3, ok, bravo. Se volessi cambiare la posizione me lo dici, la cambiavo senza problemi. La 4. La 4. Questa? 1. Alla 1. E questa la mettiamo qua. 5. Perfetto. Cambiami la 2 con la 1. La 2 con la 1? Sì. Quindi la 2, la mettiamo qua e questa la mettiamo qui. Sì. Perfetto. Vuoi fare altri cambi? No, basta così. Meraviglioso. Quindi tu hai scelto di mettere le carte in una posizione in cui volevi. E guarda un po', la magia quant'è bella. No, spettacolo. Con bacio, no? Con i miei. Bellissimo.